vai sotto buono stai giù stai basso è bravo stai fermo quell'attimo appoggiati e vieni su piano piano devi stare basso quando ricevi palle molto profonde molto tagliate che si abbassano in back ok e quando sei a fondo campo e vuoi rispondere due mani quindi vuoi continuare a spingere o vuoi fare un lungo linea arriva ancora forza sotto bravissimo ottima 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 stai basso stai giù e via ok rimani rimani con i piedi appoggiati vai sotto bravissimo ora prova anche tu a rispondere con un back quindi la soluzione è mi abbasso sto giù se ho tempo solido e continuo a spingere oppure provo anch'io a giocare il backspin e continuare magari sulla diagonale e sfruttare la sua la sua rotazione la rotazione del mio avversario in backspin per giocare un'altra palla in backspin ancora più e che giri ancora di più arriva vai bravo stai giù dai profondità e vai su un back esatto su una palla profonda del tuo avversario rispondi profondo ok altrimenti gli dai la possibilità di scendere a rete ok via vai esatto dai appoggiati bene appoggiati e fai scivolare bene bravo il braccio in avanti ok ora te la gioco un pochino più morbida un pochino più vicino alla rete quindi l'avversario ti porta a venire avanti cosa fai corsa verso la rete mi abbasso preparo per tempo sto compatto mi fermo quell'attimo e poi proseguo ok devo frenare un po la mia inerzia verso la palla al momento dell'impatto non mi blocco completamente perché perdo lo slancio verso la rete vai vieni bravo stai basso occhio parti magari un pochino più avanti vari centro basso continua ti sei fermato voglio quando arrivi in quella posizione del campo non puoi tornare indietro devi proseguire quindi voglio vedere questo e questo poi uno due passi poi torniamo indietro come esercizio va benissimo non devi attaccare ora però non ti bloccare bravo perfetto perfetto vai sotto esatto bravo rimani basso rimani basso altrimenti ti scappa rimani basso molto bene vai vieni e vieni avanti ti sei bloccato un po troppo ok da quella posizione scegli l'attacco in lungo linea quella posizione scegli il lungo linea e l'avversario qua vai via forza esatto bravo bravo e copri un pochino di più lungo linea ok la rete la coppia un po più verso questa zona si attacchi di qua riproviamo vai forza vieni ok viene avanti centrale in questo caso è attaccato centrale la palla l'hai colpita dal centro del campo ti si è alzata troppo perché siamo entrati col piatto corde troppo da sotto è aperto troppo il piatto verso l'alto quindi la palla nell'attacco di deve rimanere bassa bassa e tesa attenzione anche questa volta ti si è alzata troppo forza ok attenzione poggiati bene sulla gamba destra altrimenti non sentiamo non sentiamo la palla un attimino mi devo appoggiare ok bene sei scivolato l'ultimo appoggio in questo caso stai attaccando non devi scivolare la scivolata su un back va benissimo per un colpo difensivo non di attacco ok quando sono in attacco poggio e spingo in avanti mai scivolare scivolo se sono in difesa in ritardo ok vai perfetto ok bene spero che i consigli che ho dato al mio allievo questa mattina possano essere utili per migliorare anche il vostro tennis se così è vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e potete anche visitare il nostro sito web cliccando la scheda che vedete comparire qui in alto a destra o sotto nel video siamo sempre a vostra disposizione per uno stage di tennis sia personalizzato che di gruppo potete anche guardare il nostro calendario stage